Salve, sono la professoressa Elisa Pignataro, vicaria dell'IC Settembrini di Mandaloni. Sono qui a chiedere di votare gli elaborati grafici dei nostri ragazzi che hanno partecipato al progetto formativo dell'associazione Hunter, sole in classe, e hanno lavorato con tanto entusiasmo. Come ambasciatrice Hunter, come delegato Hunter, vi chiediamo di votare i ragazzi dell'Istituto Conferensivo Vigisettembrini di Mandaloni. Mi raccomando, votateci!